Allora, siamo qui di fronte al caniere dell'Ossaia dove, come al solito, c'è sempre il solito sovrannumero di cani. Il caniere era stato fatto inizialmente per contenere 55 cani, ma in realtà i cani sono sempre sopra 100. Quest'estate addirittura con tutte le cucciolate che abbiamo avuto siamo arrivati quasi a 140. E prevedo che ora, primavera e estate, ricominceranno ad arrivare le cucciolate e quindi il numero aumenterà di nuovo. Noi ovviamente abbiamo bisogno di tutto qui dentro, perché i soldi non bastano mai. Abbiamo bisogno di cibo prima di tutto, mangime, scatolette, croccantini, pane, pasta. Abbiamo bisogno di medicinali, anche magari scaduti da poco, tipo antibiotici. Abbiamo bisogno di volontari, gente che ci viene a dare una mano, perché qui il lavoro ce n'è sempre tanto. Quindi persone che ci danno una mano a pulire, a dargli da mangiare, a curare gli ammalati. Anche a portarli fuori a passeggio, se qualcuno ha voglia, insomma, di farlo. Come si può aiutarvi? Quali sono i numeri da contattare? I numeri da contattare? Ma diciamo principalmente il mio, tanto sono io che più che altro sono qui tutti i giorni. Il numero è 339 1713 973. Io sono Stefania. Quando si può visitare il canile per delle adozioni? Ma diciamo che noi siamo quasi sempre aperti al pubblico dalle 9 a mezzogiorno e dalle 5 alle 6 e mezzo i feriali. I festivi solo la mattina. Avete anche un sito internet? Sì.